non mi sembra una squadra che domina e non ci scordiamo c'è anche l'asso Juventus che ha detto in apertura non mi pare che la Roma ha avuto capisci? però deve essere una forza ben convogliata perché se poi andiamo sempre sulle idiozie sulle celtronerie non va bene ho capito ma se il giornalista non calugna si guarda bene dal canugliare da insultare perché non è stupido il giornalista noi questo dobbiamo vedere non quello che ci scrivono sopra che non ha nessun fondamento noi dobbiamo vedere il fatto la partita giocata il giocatore com'ha reso poi se il giocatore si mette lo scarpino blu e uno arancione sono affari suoi non nostri il presidente deve imparare dovremmo imparare Massimo rimettiti meglio sulla cornetta cortesemente si dovremmo imparare a sapere leggere quello che uno scrive e capire se è una cosa che può essere vera o se può essere inventata o se può avere pochissimo valore grazie a tutti